Tutto sposi continua a crescere. Il Salone del Wedding più grande d'Italia ha superato le 140.000 presenze nei suoi 10 giorni di esposizione alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Il bilancio tracciato dagli organizzatori indica una crescita del pubblico giovane grazie ai sistemi di promozione 2.0. A conti fatti, le presenze di pubblico si sono divise in due grandi categorie, le giovani coppie, direttamente interessate al mondo del matrimonio, ed adulti che rappresentano i grandi decisori per gli acquisti, ovvero genitori o nonni. I rilievi statistici hanno dimostrato inoltre che a tutto sposi sono giunti visitatori dal mondo con un 6% dall'estero, Spagna, Regno Unito, Francia, Stati Uniti e persino Australia, e un 93,99% dall'Italia, con ovviamente la Campania che ha fatto registrare il 91,22% di presenza rispetto alle altre regioni con l'8,78%, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, ma anche Toscana e Lombardia. Le presenze campane a tutto sposi hanno raccolto adesioni da ogni provincia e da ogni singola frazione delle province, tanto da dimostrare come il mondo produttivo e di acquisto sia capillare e diffuso sul territorio. In questo filone positivo per la Campania non poteva mancare l'area flegrea. È anche un momento di incontro tra tutti gli addetti del settore, in cui c'è un collegamento un po' con la realtà, non solo anche di concorrenza, ma anche di novità del mercato, quindi direi che è un'ottima vetrina per i clienti, ma anche per gli addetti del settore. Nutrita, infatti, la presenza dei gestori delle stupende ville e ricevimenti di locali e strutture balneari nel territorio che negli ultimi tempi si stanno rivolgendo all'industria del wedding, raccogliendo notevoli soddisfazioni. Il matrimonio comunque è un evento che grazie a Dio appartiene proprio ad una cultura campana, quindi non è mancato. Avete prettamente persone che provengono dall'area flegrea, che vengono a sposarsi da voi, oppure in generale anche da altre parti della città di Napoli? No, da molte zone, tipo anche il Casertano, Napoli Centro, Salerno, Mondragone, quindi un po' quasi tutta la campania.